No, assolutamente no, l'ho conosciuto attraverso le fotografie, attraverso il romanzo, attraverso i racconti della moglie, tutto qua, l'unica cosa è che durante le prese intorno all'inizio io gli ho scritto una lunga lettera che non gli ho mai dato, però è stato più terapeutico per me perché gli raccontavo di tutte le mie paure, delle cose che sentivo inarrivabili per arrivare a questo lavoro, per fare questo lavoro al meglio, però no, non l'ho mai incontrato. Per me è già stato molto forte incontrare la moglie e i figli perché ovviamente è ovvio che per loro, la prima cosa che senti è uno sguardo chirurgico su di te per cercare di, insomma loro cercavano di vedere se gli potevo somigliare, se potevo rendere quello che per loro è stato Antonio, quindi all'inizio è stato molto duro per me, proprio emotivamente rapportarmi con questa cosa qua, poi mi sono lanciato in questa cosa pensando che avrei dovuto fare il mio Antonio Perrone senza star troppo a cercare di acchiappare qualcosa che c'era solo a far menti. io ho tre domandine ai registi, una, dunque volevo capire una cosa a voi, questo film è più concentrato sulla persona più che sulla sua attività criminosa perché è una crescita, mi sembra, è molto documentaristica, c'è molta pietra da parte vostra, forse per chi ha spinto a fare questo film visto che avete comunque trattato un tema che è molto ribattuto e molto anche trattato dalla televisione addiction, la mafia, la violenza eccetera, invece qui la violenza è quasi secondaria oppure nella storia sicuramente di Perrone ce n'è stata moltissima insomma, questo, cosa avete scritto per me? Secondo, che poi è collegato a questo, poi in quest'ottica quali film vi hanno in qualche modo ispirato e quali avete evitato? voi avete parlato di, non volete parlare di una gangsta storia, vorremmo dire questo. Ma ci stanno varie ragioni per cui ci hanno spinto a, secondo me, il discorso sulla dietas è vario, poi ognuno ha una sua dietas, penso che, secondo me la cosa, innanzitutto c'era una ragione, come ho detto prima, di un senso di mancanza di affrontare la storia recente per quanto riguarda la regione Puglia, della nascita di questa strana mafia, in qualche modo io penso che una comunità, in questo caso quella nostra, da cui insomma abbiamo lavorato, abbiamo vissuto, aveva un vuoto che era quello di analizzare sia da un punto di vista, cioè di non lasciare soltanto alle pagine giudiziarie il racconto di quegli anni, pagine giudiziarie che sono state necessarie ed importanti e che hanno chiuso per fortuna un periodo per quanto riguarda di quegli anni. Mancava, secondo noi, da un punto di vista letterario Perrone l'ha fatto in un suo modo, noi l'abbiamo voluto fare da un punto di vista cinematografico. Poi c'è sempre, in Italia c'è sempre paura di affrontare questi temi perché o si affrontano con l'identificazione totale, quindi su quanto è figo far vedere la violenza e le morti o l'identificazione subito col personaggio protagonista, con i personaggi o c'è il filone delle fiction o dei film visti da un lato, cioè si tende a separare i buoni e i cattivi o il bianco e il nero. A noi ci interessava lavorare su quello che c'è poi in realtà, almeno nel sud o in Italia, che è quella grossa zona grigia da cui secondo me i nostri due protagonisti escono fuori, che è proprio la mafioginità e più che la mafiosità, che colpisce più persone di quanto pensiamo, ma proprio anche delle dinamiche che a volte nessuno se ne rende conto, che è una dinamica soprattutto anche proprio delle società meridionali e in generale italiana. In realtà i nostri personaggi, poi Claudio e Valentina sicuramente ci hanno lavorato molto, sono due personaggi che noi abbiamo avvicinato più, tra virgolette, alla normalità, sono due personaggi che provengono dalla famiglia benestante, che ha bella coppia del paese, che aveva un po' tutto, che sicuramente poteva scegliere una strada diversa e che per tutta una serie di motivi si trova quasi in un percorso da cui è a interpretare quasi dei personaggi loro stessi da cui poi non riescono più a uscire o a staccarsi di dosso. Perrone stesso, lo dice nel suo libro, lui si ritrova a recitare un personaggio che alla fine non riesce più a scrollarsi di dosso. Quindi insomma questo è quello che ci ha motivato nello scegliere una storia del genere, sia da un punto di vista proprio storico ma anche da un punto di vista di indagare comunque un discorso proprio psicologico che ci interessava. Su altri film insomma ognuno di noi ha un proprio bagaglio? No vabbè, sui film non so, nel senso che noi non lo possiamo, noi volevamo fare sicuramente un film freddo, questo sì, cioè non volevamo come ha accennato Davide, buoni e cattivi, lui sta tra i cattivi se vogliamo dire, non è che sappiamo benissimo da un punto di vista storico, di cronaca nera, anche se poi lui personalmente, ma non vuol dire niente, ha un concorso in omicidio, quello che nel film è l'omicidio di Daniele, lui in sede processuale è sempre negato, invece è stato condannato per spalaccio, sono gli anni dell'invasione dell'eroina sul territorio, sicuramente lui è stato uno dei responsabili, nonostante venisse da una famiglia diversa, da un percorso particolare, non solo, nonostante nascesse, lui non voleva fare il mafioso, nel senso quando si definisce l'apostolo dello sballo, lui intraprende una vita al massimo e alla fine non riesce più a staccarsi da questa vita, inizia a fare le prime rapine, gli eventi gli precipitano addosso, in carcere si affilia, quindi ha un percorso particolare, ma non è quello il punto, non volevamo fare il film dove alla fine tifi per il cattivo, siamo su noi riusciti a tenere una certa distanza, poi il, e neanche dare, non è una storia, come dire, anche se uso termini stupidi, di antimafia, anche se poi, se vuole la parabola anche molto classica, uno vuole vivere una vita al massimo, spaccare tutto e finisce in un buco nero. La cosa interessante di Antonio, e secondo me c'è nello stile di come noi abbiamo affrontato il personaggio rispetto a questa freddezza che abbiamo mantenuto, è anche lui come ha affrontato la fase processuale, cioè lui si è dissociato, non si è pentito, cioè non è diventato collaboratore di giustizia, ma ha intrapreso un percorso che poi è sfociato nel libro, che poi è entrato il film, di dissociazione, secondo noi, avendolo incontrato, ma questa è un'idea nostra, reale, però questo è un giudizio, un giudizio personale, e che sì, vabbè, che è un po' tutto il film, poi secondo me è un film in realtà, poi ognuno ha chiaramente i giusti giudizi, i propri giudizi, però secondo me in realtà è stata una scelta quella di non fare, cioè secondo me è un film molto violento, nonostante non ci siano pochissime le scene di violenza, perché noi abbiamo lavorato per archetipi, insomma, anche i tre, tra cui appunto Ugo sta in sala, ma anche il personaggio di Daniele, anche la scena del ristorante, quella verbosità, che comunque la violenza è concentrata tutta in quella scena, in realtà poi c'è modi e modi di raccontare la violenza, poi uno ci riesce o non ci riesce questo stanno, chiaramente ai fatti, però non esiste secondo noi, cioè un film può essere violento anche senza far vedere 3.000 ammazzamenti o 10.000 rapine, insomma. Alla prossima